La scuola è la scuola di Roma. Adesso rispondiamo alle vostre domande. Quanti ragazzi e ragazzi hanno in vostro scuola? In classe siamo 22 più una maestra. Nella scuola invece è circa 350. Noi parliamo in italiano ma studiamo anche l'inglese. A scuola studiamo anche l'inglese. E tu? Io anche parlo spagnolo. E tu in arabo. E tu? Io vorrei imparare il giapponese e leggerlo però un po' so scriverlo. Qual è il plato tipico da lì? La pasta alla carbonara. L'arbacchio con le patate. I gracciofi alla giudica. Ma a noi ci piace... La piscina! Hai campos di fútbol del céspede in vostro barrio? Ce n'è uno vicino a San Basilio e uno dietro l'Oleven nella piscina. La stessa assemblea è ora in vostra classe? Non è proprio un'assemblea. Ma ogni giorno con la maestra facciamo una conversazione tutti insieme. Noi abbiamo una batucada. Vosotros tenete anche un gruppo di musica? Facciamo musica e abbiamo un maestro esperto argentino, ma non abbiamo un vero gruppo. Come fa la casella è molto uguale. Abbiamo dei palazzi al di là a quattro piani. Alcuni palazzi sono anche dipinti. C'è un palazzo che hanno dipinto tanti insetti. Qual è la festa maggiore importante di agire? Alcune feste sono state preparate dalla parrocchia. Abbiamo una bellissima biblioteca che organizza eventi.